Nel corso degli anni 80 e 90 Monet si dedica alle famose serie di tele dedicate a uno stesso soggetto. Fra queste, quella delle Falesi di Eterità è la prima che egli realizzò entro gli anni 90. Più che sulla forma così caratteristica e singolare delle rocce, Monet si concentra sull'emozione per gli effetti della luce che cambia ad ogni istante e che provoca una disgregazione della materia che si trasforma in tocchi di puro colore. La descrizione più chiara del procedimento utilizzato da Monet per dipingere queste tele in serie credo che sia quella offerta da Guy de Maupassant nell'articolo La vita di un paesaggista, pubblicato sulla rivista Le Goulois del 28 settembre 1886, nel quale egli descrive la sua esperienza a Eterità insieme al pittore. Scrive Maupassant, lo scorso anno in questo paese ho spesso seguito Claude Monet in cerca di impressioni. Non era un pittore in verità, ma un cacciatore. Andava seguito dai bambini che portavano le sue tele, cinque o sei tele raffiguranti lo stesso motivo in diverse ore del giorno e con diversi effetti di luce. Egli le riprendeva e le riproneva a turno, secondo i mutamenti del cielo. E il pittore, davanti al suo soggetto, restava in attesa del sole e delle ombre, fissando con poche pennellate il raggio che appariva o la nube che passava. Esprezzante del falso e dell'opportuno, li poggiava sulla tela con velocità. L'ho visto cogliere così un barbaglio di luce su una roccia bianca e registrarlo con un giotto di pennellate gialle che stranamente rendevano l'effetto improvviso e fuggevole di quel rapido e inafferrabile bagliore. Un'altra volta ha preso a piene mani uno scroscio d'acqua abbattutosi sul mare e lo ha gettato rapidamente sulla tela. Ed era proprio la pioggia che era riuscito a dipingere, nient'altro che della pioggia che velava le onde, le rocce e il cielo, appena distinguibili sotto quel diluvio. Le decine di tele dedicate a Etretat corrispondono chiaramente alla descrizione di Maupassant. E tuttavia è la serie dei covoni la prima che tutti gli effetti può definirsi tale, perché dipinta con l'obiettivo chiaro di raffigurare uno stesso soggetto in diverse condizioni di luce atmosferica in maniera quasi scientifica e non sulla scia dell'emozione. Perché se la luce continua a cambiare anche tutto ciò che essa avvolge cambia. L'occhio allenato del pittore deve cogliere questa volubilità, questo dinamismo e fermarlo sulla tela in modo che tutti ne possano godere.